Buonasera e bentrovati a un nuovo appuntamento con Unica Talk Sondrio. Questa sera nostro ospite è Giacomo Fiorelli, gestore da quasi 40 anni del rifugio Gianetti, a 2.534 metri di quota in alta Val Porcellizzo in Val Magino. Buonasera Mimmo. Buonasera. Allora per chi frequenta spesso la valle, raggiungere la Gianetti è sinonimo di andare dal Mimmo, ma il tuo legame con questo rifugio parte ben prima della tua gestione. Sì, io ho cominciato a salire da ragazzino con i miei genitori e praticamente d'estate si frequentava, era aperta a tre mesi, si frequentava, ha finito le scuole, si saliva al rifugio e si rimaneva fino alla chiusura. Quindi io sono salito dai tre anni in su fino a poi che quando poi sono diventato gestore, adesso ormai sono 36 anni che gestisco il rifugio. Quindi gestire la Gianetti è stato un po' seguire le orme di famiglia. Certamente, è stato un appunto perché prima c'era mio padre, dopo ho mancato giovane e poi quando ho mancato lui sono salito io, sempre cosa ho dato anche da mia mamma, c'erano i miei parenti e poi fino ad oggi sono gestore del rifugio. Sicuramente oltretutto c'è anche una gran passione per poter proseguire a fare la gestione di un rifugio così importante dal punto di vista alpinistico e escursionistico come la Gianetti. Certo, è storico. Infatti cosa ti spinge ancora la su dopo 36 anni? Sicuramente la gran passione che uno ha, perché io sulla A mi trovo sicuramente a mio agio per tante cose, perché lo faccio veramente con tanta passione, perché ti arriva su determinate persone, escursionisti, alpinisti, devi avere sempre un rapporto con le persone, un'accoglienza, un modo di fare, da capire come sono le persone, con cui puoi conteragire e cercare di dargli una mano per dire se hanno bisogno di consigli, per aver bisogno di affrontare certe difficoltà nelle vie, dargli consigli se magari il tempo per il clima, per la neve, per tante cose, per le difficoltà e questa è un po' la mia missione, la mia passione che mi coinvolge prima di tutto. Infatti perché la gestione di un rifugio insomma non è solo quello di una struttura, che possiamo dire di accoglienza, in questo caso anche di punto d'appoggio per gli alpinisti, gli escursionisti di vista la quota, ma è proprio anche una questione di sicurezza e tu con tanti anni alle spalle di esperienza nel soccorso alpino, di certo sei pronto a questo. Sì, io da questo punto di vista quando arrivano le persone che vanno, cioè loro decidono magari di andare da qualche parte, io magari mi chiedono, gli do dei consigli, di seguire la via, di seguire determinati punti di sicurezza e poi io controllo, cioè anche la gente che sa che magari parte al mattino, io li controllo durante la salita, di giorno, controllo quelli che fanno magari le attraversate verso il sentiero Roma e poi molto importante è che il controllo dalla sera, se rientrano, che capisco se sono magari in difficoltà oppure se fanno tardi perché ci hanno messo troppo a farla via, capisci con l'esperienza se è caso o necessità che magari hanno bisogno di soccorso, hanno bisogno che si vadano a recuperarli o seguirli magari. Adesso anche con il sistema dei cellulari si può avere dei contatti in modo che si possono seguire se ha sbagliato via o dargli dei consigli dove cercare il miglior modo per scendere. E poi visto che noi abbiamo Pizzobadile che è una cima importantissima, anche di notte venendo dal versante svizzero ti capita che tu devi controllare magari verso già buio, vedi le pile che scendono e anche lì devi sapere un po' con l'esperienza che ci si è fatta, che si è fatta in questi anni capire se hanno una necessità oppure scendono tranquillamente è solo il dovuto del ritardo che hanno fatto a prendere il buio. Tu hai iniziato a metà degli anni 80, nell'86 vero per la presenza? Io ho iniziato nel 1986, il primo anno di gestione. Com'è cambiato questo lavoro negli anni? Anche proprio nella logistica? I primi anni si facevano tutti i trasporti, parlando anche di trasporti di abrippoggiornamenti si facevano con i muli e i primi anni ancora degli anni 80-70 il muro era un servizio giornaliero portavi su 100 kg di materiale poi scendeva e il giorno dopo saliva. si facevano tutta la stagione, poi passando gli anni si sono intervenuti un po' i trasporti con gli elicotteri, con gli elicotteri che però non si facevano trasporti come al giorno d'oggi ma si facevano trasporti magari un po' di roba all'inizio, un po' di grosso e poi dopo c'erano sempre i trasporti infrasettimanali, magari una volta alla settimana con i cavalli. Poi con l'avvento anche delle nuove tecnologie per creare energia, per creare da avere un po' più di comodità, abbiamo cominciato a mettere una centralina idroelettrica e per cui si poteva cominciare ad avere i freezer, avere i frigor, si poteva avere un po' più di scorta e dal punto di vista logistica ad oggi è molto più funzionale, sicuramente oggi i trasporti non si fanno più con i muli o con i cavalli come si facevano una volta ma oggi probabilmente arriva con l'elicottero, per cui si portano circa sette quintali ogni viaggio e sia ogni settimana, dieci giorni, quindici giorni, quando c'è più necessità, si chiama. Senti, in quasi 40 anni sarà cambiata anche la tipologia di persone che frequenta la Gianetti? Sì, in questi anni, mi ricordo i primi anni quando c'era ancora mio padre, così che si andava su le persone erano prettamente alpinistiche o pochi escursionisti perché il sentiero Roma, quei sentieri lì erano meno frequentati. Gli alpinisti erano un po' più spartani, avevano meno esigenze e anche il rifugio dava meno comodità. Ad oggi queste cose sono cambiate, ci sono molti più escursionisti rispetto a prima e meno alpinisti rispetto a prima. Oggi sicuramente abbiamo più comodità per gli ospiti, abbiamo le docce, abbiamo l'acqua calda nelle camere, abbiamo la luce completa nelle camere, c'è il servizio, c'è anche internet, ci sono più e poi dopo anche provvedimenti con l'elicottero hai più possibilità di dare dei menù migliori, dei cibi migliori e quindi un servizio molto più, oggi è molto più, come si dice, positivo rispetto a una volta. Se dovessi dire le mete più gettonate di chi passa da te? Ma da noi, dal punto di vista alpinistico direi che la cima più importante è il Pizzobadile, poi da su ci sono anche altre vie, c'è il famoso Spigolo Vinci, ci sono delle salite che diciamo che sono frequentatissime e poi dopo abbiamo anche il versante svizzero del Pizzobadile dove c'è la Cassina che la maggior parte delle persone scendono verso il nostro rifugio, dormono lì e poi scendono, tornano in Svizzera il giorno dopo oppure scendono giù e prendono i taxi. Poi dopo c'è il famoso Sentiero Roma, che è una tappa, la Gianetti è una tappa, diciamo, intermedia, che però è una tappa, diciamo, che è quella che fa dopo il Brasca, c'è la Gianetti, sono tappe dove si fermano tutti i rifugi. E ultimamente dopo anche c'è il percorso, c'è la gara, il percorso del Trofeo Chima e quindi anche dal punto di vista escursionistico è aumentato molto il passaggio. Mimmo, si parla tanto dei cambiamenti climatici, no? Tu trascorri tre mesi, tra l'altro senza mai scendere, vero? Io non scendo mai. Ti proprio il tuo eremo. Io salgo a metà giugno normalmente e fino intorno al 20 di settembre non scendo mai. Quindi passi un'intera stagione, quella estiva, a oltre 2.500 metri, un balcone anche per l'osservazione dei luoghi che tu conosci da decenni, no? Vedi i segni di questi cambiamenti climatici? Sì, noi vediamo questi cambiamenti climatici, ho cominciato a notarli con molta più insistenza negli ultimi 10-15 anni, diciamo. C'è stato proprio un regredire ogni anno dei ghiacciai, della neve, di tante cose di questo genere. L'acqua, i torrenti che una volta erano sempre pieni, adesso ormai sono ridotti proprio a ruscelletti proprio minimi. Non vediamo, c'è stato forse magari un anno che nevica di più, magari la neve ti rimane quel 15-20 giorni in più. Facendo il totale di tutti i giorni che io rimango a rifugio, quando scendo c'è sempre un calo alla fine di questi ghiacciai che ormai sono spariti anche su da noi. La tua famiglia ti segue in estate alla Gianetti. Vorresti, ti piacerebbe in futuro vedere magari i tuoi figli o i tuoi nipotini a gestirla? Sì, questa sarebbe una gran soddisfazione poter vedere loro che salgano, i miei familiari, perché innanzitutto è un proseguo della famiglia e sicuramente hanno avuto i vantaggi perché venendo giù adesso a darci già una mano conoscono già un po' più le problematiche nella gestione del rifugio, conoscono magari le cime, conoscono un po' i percorsi, conoscono un po' il clima, una cosa e l'altra. Questo sarebbe già un bel vantaggio, è quello che ci tengo particolarmente. Certo, giustamente tra l'altro. Siamo a febbraio ancora presto, però cominci già ad organizzarti per la salita che sarà, dicevi, verso metà giugno? Sì, metà giugno noi facciamo intorno al 15, dopo si vedrà. Magari fa avanti così, magari si sale anche qualche giorno prima. Però già adesso noi dobbiamo pensare un po', si pensa già a quello che devi preparare per la prossima stagione, il personale. Allora, buona stagione, anche se ancora un po' presto. Grazie. Grazie, è stato un piacere averti qua. Grazie. A tutti voi una buona serata e l'appuntamento con Unicato, che alla prossima settimana. Grazie. Bravo. Grazie. Ciao. Grazie a tutti